Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Ci tenevo a ringraziarvi di cuore per questo anno passato su Youtube 19 maggio 2013, 19 maggio 2014 Anche se questo video ovviamente lo pubblico il 21 di maggio Perché ho avuto dei vari problemi Vi vorrei ringraziare tutti i 2400 passi iscritti di questo supporto che mi avete dato in tutto questo tempo Spero che ovviamente i miei video vi piacciono sempre anche se capitano le cagate Come sapete Il vostro supporto è stato un grande aiuto per me perché mi ha fatto creare tantissimi video ragazzi Ne ho fatti ben 200 in questo anno Spero di crescere tantissimo Di arrivare un giorno a 5000, 10.000, 15.000, 20.000 iscritti Se ovviamente me lo dovrò meditare Ma anzi me lo dovrò meditare per forza ragazzi È un qualcosa di importantissimo ragazzi È un progetto, è un progetto che continua a crescere Spero sempre di coinvolgere più persone possibili Spero di potermi anche magari Spero di potermi anche migliorare magari con l'esperienza videoludica Magari giocare su Xbox, su Playstation Anche perché vorrei prendere la Playstation 4 per giocare con alcuni di voi Visto che mi sono creato il profilo su Playstation Network o PS Network come cazzo si chiama E ho già ricevuto abbastanza alcune richieste amici insonialmente Quindi mi farebbe piacere anche ottenere la piattaforma Playstation 4 così possiamo giocare tutti insieme Ci sono delle esclusive veramente interessanti nel mondo Sony E vorrei recuperarle anche come The Last of Us Quello che sta per uscire è rimasterizzato su Playstation 4 a 1080p Quello che cazzo è, Full HD eccetera Quindi spero che questo possa avvenire il prima possibile così Posso diciamo raggiungere anche la fetta che è di iscritti che gioca su Playstation Giochiamo tutti insieme sia su Xbox sia su Playstation sia su Xbox 360 eccetera Un giorno prenderà anche la Wii Anzi la Wii ce l'ho già ragazzi Mi manca la Wii U che ho visto che è scelta a tantissimo di prezzo Quindi è un buon motivo per acquistarla magari la migliore con la premium pack nera Che cazzo nessuno Quindi ragazzi vi ringrazio ancora di cuore per il vostro supporto che mi avete dato Sono veramente contentissimo di questo Un anno su Youtube è passato veramente in fretta Spero che anche l'anno prossimo possa andare nel migliore dei modi ragazzi Quest'estate probabilmente lavorerò un pochino per farmi qualche soldino Per spendere per camera, magari per la macchina, magari per i giochi Non lo so ragazzi, vedremo un pochino Se riuscirò bene, se no se non riuscirò ragazzi Sapete che mi faccio sempre vivo sulla pagina di Facebook E lì magari scrivo qualsiasi aggiornamento delle mie condizioni diciamo Su Youtube Lo saprete presto sicuramente ragazzi Anche nei prossimi video lo dirò se dovesse esserci qualche problema Quindi ragazzi vi ringrazio sempre per il vostro supporto E noi ci vediamo alla prossima Spero che il video vi sia piaciuto Perché è dedicato esclusivamente a voi Ho fatto delle conoscenze veramente importantissime Sia in capo di scritti Ovviamente anche di Youtuber Ho fatto amicizia anche con tanti Youtuber Sia piccoli che veramente grandi Che ovviamente saluto Sanno a chi mi riferisco E noi ci vediamo alla prossima Quindi Bala raga Ciao Grazie per la visione